Seconda sconfitta fuori casa per il Gravina di De Leonardis che dopo Brindisi perde anche ad Aversa contro i padroni di casa del Real Agro che invece conquistano i primi importanti punti del torneo, le reti tutte nella ripresa. Il Gravina però prova subito ad impostare il gioco e a guadagnare campo, ci prova al minuto 8 con Gionai ma prudente e bravo a smanacciare. Un minuto dopo Chiara Dia trova lo spazio giusto per mettere al centro un pallone da sinistra invitante che trova impreparato l'estremo difensore Granata ma nessun pugliese è pronto al tapin vincente, ritmi incessanti nonostante la pioggia, correnti dal limite, prova ai riflessi di Prudente che questa volta è preciso smanacciando in angolo, arriva la reazione Aversa, torno alla mezz'ora, Simonetti ha la palla buona ma è bravo, Pagratis a salvare tutto, Chianese conquista palla sulla tre quarti, trova in bello stile lo spazio per Della Corte che tutto solo calcia ma Panebianco respinge immolandosi sul pallone, gara più contratta di inizio ripresa ma al sedicesimo passano i padroni di casa con il primo gol in serie D, calcio d'angolo di Barone, Varchetta stacca meglio di tutti, Pagratis tocca il pallone con la complicità del palo ma la sfera supera la linea secondo l'assistente arbitrale e 1-0, gli uomini di De Leonardi stardano a reagire e Laversa sulle ali dell'entusiasmo prova il gran gol con Simonetti attorno alla mezz'ora, poi il raddoppio dei padroni di casa, Simonetti inventa per Chianese che tutto solo davanti al portiere non può sbagliare, è 2-0 ed il gravina un sussulto adotto dal termine quando Gionai nel cuore dell'area di rigore calcia ma la difesa di casa mette in corner al 43esimo arriva poi il penalty che riapre il match in pro, è entrato nel finale, tocca la sfera con la mano in aria ed è calcio di rigore dal dischetto implacabile puntoriere l'emozione finale arriva a tempo scaduto quando Chiara Dia serve per Gigli un invitante pallone nel cuore dell'area ma i difensori ospite la sfiora e la palla è out la squadra di De Leonardi sola dovrà però preparare la sfida nel fortino del vicino contro la corrazzata Casarano